L'intervento strutturale sul canale esplonatore è un'opera strategica che è necessaria per il centro storico di Isola dei Liri ma anche per tutti i territori circostanti. Sono un paio d'anni che interlobiamo con la regione per il finanziamento non solo della progettazione ma anche poi dell'intervento che è proprio e proprio l'11 di ottobre abbiamo mandato una missiva alla regione, abbiamo interlobito con la regione e ci hanno comunicato che oltre al fondo di progettazione è stato finanziato anche il primo lotto che riguarda questo intervento. Siamo in contigo contatto alla regione, a breve avremo anche una risposta di questa missiva in quanto potremmo aver finanziato anche la progettazione del secondo lotto per poi successivamente immaginiamo l'anno prossimo avere anche il finanziamento del secondo lotto. Quindi è un'opera su cui noi stiamo puntando tanto, interessa tantissimo la nostra amministrazione e ringrazio anche l'attenzione dell'onorevole Fontana che ci ha aiutato in questo intervento.